Ho deciso di far installare questi vasi davanti all'attività commerciale perché comunque è centro storico, trovo bellissimo la piazza Capur e questo non fa perché valorizzare comunque non solo l'esercizio commerciale ma proprio la piazza in generale e il progetto redurbano secondo me dovrebbe essere preso in considerazione da un po' tutti quanti anche perché non parliamo di cifre folli ma esteticamente poi rende tutto più bello